Elia Bossi al termine della vittoria per 3 a 0 interna con Milano, si torna alla vittoria dopo la sconfitta esterna con Perugia e la grande vittoria interna con 3. Insomma un gran bel momento per Molfetta. Sì, sono stati bravi a non lasciargli spazio stasera, hanno avuto qualche momento di difficoltà e in quei momenti abbiamo avuto la meglio e sì, sono stati bravi fino alla fine. Arriva la pausa ora, ci si ferma per la Coppa Italia, quella Coppa Italia sfiorata? Sfiorata, sì per un pelo, forse con una partita potevamo arrivarci però adesso dobbiamo pensare a ricaricare le batterie e ricominciare la prossima. Una squadra quasi rivoluzionata, tanti cambi nel corso della stagione, Molfetta sta vivendo un gran bel momento e si sta vedendo un gran bel gioco di squadra soprattutto. Adesso abbiamo trovato una bella continuità, mi trovo molto bene col palleggiatore, molto bravo e tutti quanti i ragazzi si stanno impegnando per questa amalgama. Una serie di situazioni ti sta anche permettendo di mettere piede in campo tanto e bene? Di questo non posso che essere contento ma auguro a Piscopo di rientrare presto e sì, spero di prendere al balzo l'occasione. Come reputi questo tuo momento? Sono molto contento e confidente nelle mie potenzialità. Ora la pausa poi si torna in campo con Castello. Sì, a Castello ci pensiamo un po' e abbiamo due settimane per pensarci. Grazie.